bella raga e benvenuti a questo nuovo video come avrete visto in questi giorni che ho messo nel letter di youtube e anche nel bg e ora in questa intro i loghi di maschini ma questo diciamo era più per installare un po magari di curiosità o così via e principalmente oggi voglio celebrare con voi il fatto di essere entrato a far parte di maschini ma di essere partenato con loro e devo ringraziare voi se sono riuscito ad arrivare fino a qui perché sinceramente non è una cosa che potevo fare da solo ma solamente grazie a voi quindi se ci sono riuscito grazie spero che continueremo a supportarmi ora con maschini ma dato che il mio canale andrà su i canali consigliati canali corrali eccetera eccetera video consigliati e tutto il resto spero di riuscire a guadagnare una fetta di utenza ancora maggiore e quindi di riuscire a coinvolgere sempre più persone in quello che è il mio canale e i miei video perché quello che voglio fare è cercare di portare il competitive in alto possibile infatti ora mi sto montando di una connessione con satellite oltre che al mio dsl in modo da poter streamare le mie partite e poter fare diciamo non solo degli episodi da mettere su youtube ma anche dei veri live streaming con voi con l'utenza che mi segue con voi che mi supportate e quindi di coinvolgervi in quello che è il mondo del competitive e non oltre a questo che diciamo è il mio progetto che dovrebbe partire fra 1 o 2 settimane quello di fare live streaming e voglio anche cercare di trattare di altri giochi per esempio vorrei trattare anche magari di fifa 14 pro clubs perché secondo me è molto divertente e anche magari di gta specialmente l'online perché secondo me può essere molto divertente se giocato con le persone giuste e quindi potrebbe anche farvi divertire oltre sempre che vedere i soliti video di code perché quello continuerò sempre a fare dato che quello che mi sono proposto di fare creando questo canale e che non mancherò di fare ma anche magari mettere qualche video di gta 5 online e fifa 14 pro clubs vorrei che mi facesse sapere magari nei commenti cosa ne pensate e magari o se no qualche altro gioco per esempio io pensavo pure qualche gioco horror dato che io mi cago veramente in mano quando gioco ai giochi horror ma non solo quindi pensate un po cosa potrebbe essere voi che mi vedete con la webcam e il live streaming e io che urlo con un pazzo di notte con le cuffie mia madre che mi viene a tirare una sedia nella schiena perché mi sono cagato appena in mano giocando che ne so a slenderman outlast e così via oltre a questo comunque ricordatevi continuerò sempre a fare i video di god ovviamente non lo lascerò da parte cercherò sempre di fare serie per diciamo ctf ora ora la farò lo farò tranquilli farò la serie su ctf state tranquilli hp cercher che distruggi così via liste min chi più ne ha più ne metta continuerò quello che posso su code e lo farò anche su ghost ma allo stesso tempo vorrei cercare di trattare anche di altri giochi fatemi quindi sapere nei commenti cosa ne pensate e grazie ancora per aver preso la partnership con machinima ringrazio alex di machinima e specialmente voi che mi avete portato fino a qui in così pochi mesi grazie ragazzi al prossimo video bella